Ciao a tutti, ciao a tutta la città di Viareggio, ciao a tutti i passionati di carnevale, ciao a tutti i nostri turisti che sono in vacanza qui sulla Riviera. Che dire, sabato sera 27, dalle 8 un po' e con l'apertura di musei, cose varie e tutto un po', potrete ammirare uno scorcio di carnevale che è stato, cercando di portare un grande spettacolo e mettendoci la tutta, dove ognuno di noi darà qualcosa e cercheremo di fare una bella serata. Auguri.